Dopo un'estate che non finiva più, Xenoverse è tornato per essere concluso. Ho intenzione di mettere la parola fine a Xenoverse, sì, non mi ricordavo che c'era il dialogo. Ho lasciato l'ultima volta che ho giocato, era giugno. Ho fatto delle prove per capire come affrontare al meglio delle mie possibilità sto tizio. Vacuum, ora mi ricordo anche il nome. Dovrei riuscirci con Luxflon, no Luxflon che è luce, e palloncino. Ma è tutto da vedere perché quando poi tu cerchi il metodo migliore, capisci le mosse che fa l'avversario, poi puntualmente ti frega. Cerchiamo di non essere volgari subito all'inizio, ci sarà tempo per essere volgari se la strategia non funziona. Quindi iniziamo con calma, tranquilli, dopo una bella nottata di riposo alle 6 del mattino. Oh, non c'è niente di meglio che giocare ad un fangame difficile alle 6 del mattino. Tanto per iniziare bene nella giornata. Il problema di questa sfida è che ogni volta devi riaffrontare il dialogo. Mannaggia a te. Ho messo ovviamente la modalità più difficile perché siamo dei pro gamer. Ci provo, ma non lo sono. Dai, sì, va, va, mezzo nudo, dai. Bravo, va bene. Io sono brutto che c'hai Gorgion. Però è forte Gorgion, eh. Non sottovalutiamola. Non sottovalutiamolo. Però la Gorgone mi è venuto da solo. Io avrei sto la scelta. Buono. Non ho geloraggio. Cartel rosso, sì. Scovail, va bene. Usa tuono perché c'è la pioggia. E il Drago Pulsar non me l'aspettavo però. Dunque, cartel rosso l'ha usato, quindi... Manderei Luxflon. Eccolo! Eccolo, ha fatto Geoforza. Annullo le mosse di terra col palloncino. Ah, non ho ancora rimesso le animazioni. Eh, vabbè. Mi scordo ogni volta. È un po' come la IA di Pokémon rosso, blu-verde e anche giallo. Che faceva solo mosse super efficaci. Però, tipo, se tu eri un Pokémon veleno e incontravi un Pokémon con una mossa psico, lui ti faceva per forza quella. Ma se aveva solo agilità... Lui che fa? Ah, fa calmamente a sua volta? E allora Lancia Strale. Cacchio, però. Così non va bene. Ah, un'altra ce la facciamo. Oh, ok, chi manda? Thundurus. Pensavo meglio. Lui fa calmamente solamente. Non sa come affrontare il mio Luxflon. Non ha niente, praticamente. A gelo raggio. A gelo raggio. Ok, me lo rompe. Non so quanto possa far male lui. Ok, ah, vabbè. Perfetto, perfetto. Ah, questa, ragazzi. Non vorrei dire nulla, però. Però. Però, dai. Dai che dai, dai. Cioè. Ah, è Namurso, anche Lucia, sì. Pokémon, uno dei Pokémon più brutti di sempre. Ma perché l'hanno fatto? Mamma mia. Devastata. Ho fatto sei calmamente e il lanciastrale ha killato. Quindi mandai Gorgion e Gorgion basterebbe un terremoto. Oggi ho forza. Oh, ah, ah. Ha fatto una finta. Ma è geniale. Ma è un genio lei. Sì, fai calmamente. Intanto io ti torchio con il lanciastrale, però. Se fa un altro calmamente poteva anche superare... Non ce la fa. Oh, allora è fatta a sto punto. È finita. È l'ultimo Gorgion, giusto? Ce l'ho fatta. Finalmente, è fatta. Let's go. Vai. Eh, fatta. Apposca, dai. Dai, dai. Dai così, vai. 60.000. Wow. C'è i saldoni questo. È ricco. Che te lo frega gli stacqua sopra. Sei ricco. Credi che opporre resistenza abbia senso? Mi sembrava di aver già messo in chiaro ampiamente che delle formiche non possono nulla contro un gigante. Tante formiche, sì. Specialmente quelle rosse. Ma se ne vuoi la prova... Dai. Ho fatto in modo che un altro ospite si venisca a noi. Ah, è il fantasma del serpentone. Oh. Giaura. Hanno assunto uno che fa proprio i versi. Bellissimi i versi. Ma che facciamo alla ghiratina? Eh, che cacchio. Ma no. Posso usare gli strumenti? Oh. Dov'è? No, io avrei veramente... No, no. Aspetta, aspetta, aspetta. Non posso usare cenere magica qui dentro. Cacchio. Ah, ok. Fatto alito gelido, ho fallito. Bene. Un'iperpozza. Allora che tanto alito gelido... Alito gelido non... Non fa molto, ma fa brutto colpo. E allora... Calma. Calma, ce la posso fare. Calma. Hai rotto! Attacca lite. Ma sti cacchi. Faccio un calmam. Un calmam. Eh, svanisce sostituto. E allora... Eh... Insomma... Un po' di... Di cortes... Un po' di umanità. Oh, oh... Oh... Un altro calmamento. Ma cacchio, è vero. Attacca lite del cacchio. Il sabbo. Ah, ah, ok. Ha fatto protezione. Ha fatto protezione. Quindi attacca lite. Alito gelido è protezione? Che set di melma. Dai, è costo sostituto che svanisce. Aridaglielo tu. Sì, perfetto. Guarda, allora. Io ora ho la strategia per vincere. Spero di usare... Spero di farcela. Perché se non ce la faccio, io... Mi arrabbio. Eh... Però le forti. Dai. Sì, vabbè, ma... Ma, oh! Ho fatto calmamento. Ho fatto le cose. Fai sempre il brutto colpo. Va bene. Fai sempre questo brutto colpo dannato. Però... Amico mio. Eh, dai. Calmamente. Ah! Allora! Allora! Sostituto. Psico transfer. Ma che attacchi c'hai? Ma, amico mio, ma che ti hanno dato? Ho fatto attacca lite per sbaglio. Ho fatto lanciastrale per sbaglio, voglio dire. Ok. Ho ancora attacca lite, vero? Ah, Geoforza anche lo colpisce. Ok. Non ha più alito gelido, per caso. Ma ha... Ha pressione. Cacchio! Ha pressione, ma... Me la finì tre con una volta sola? Cioè, vabbè, due. Però leva uno in più. Non così... Non tutti. Cioè... A parte ho l'Elysir Max io. Quindi posso stare un po' più tranquillo. Allora, questo inizierà a fare scontro da un momento all'altro. Perché non ha nulla. Quindi io ricarico i Pokémon. Attacca lite a fallito. Lotta. Lanciastrale. No! Non mi fare così, però! Che palpebre! Oh! Allora... Io ora per sicurezza vado con... Con Geoforza, perché sai... Non vorrei che facesse... Ok, sì, va bene, calmamente. Psicotrasfer. Guarda, se ora mi fa protezione, giuro che mi... Mi proprio... Ok, bravo. Non la fa più protezione. Ha finito. Ok, ha finito. Ha finito protezione. Bene. Questo ospite era un po' una fetecchia, o no? Rimedi, ho un altro... No, ricarica, iper... Nelle bacche, una baccamela? Che fa bacca Eden? Nessuno aveva avuto il coraggio di mangiarla. Perché nessuno ha il coraggio? Ah, non ho baccamele. Un altro calmamente. Ah, non possono più aumentare. Non me ne ero accorto proprio. Guarda, ce la finiamo a scontri? Ce la finiamo a scontri? Beh, a mo... Ma... Scusami. Ipernova! E non gli ha fatto nulla, tra l'altro. Drago Pulsar! Vai! Urlo i nomi come nell'anime. Porca merda, però. C'è qualcosa che non quadra con... Ebbè, doppia! Facciamo anche la tripla. Ma c'è ancora protezione, sto pezzente? Ah, perché si è protetto. Giusto, giusto, giusto. Va bene. Oh, e allora? Ma che è? Tipo terra? No, è tipo roccia. Che cacchio tipo è? Non mi ricordo più che tipo era. A sto punto non mi interessa più. Davvero un bello spettacolo, ma... Non ti sei accorto di niente? Non ti sei accorto di niente? Sì, che era un po' debole, se intendevi quello. Questo non è Dragalisk. È... Quel cyborg... Oh, no! È il nostro amico? Quel cyborg a cui tieni così tanto. È veramente riuscito a far sparire quella parte di me, in un modo o nell'altro. Quello che è davanti a te non è altro che la mera proiezione della presenza del nuovo ospite. Ah, che deve ancora unirsi a noi. Sai, lui era al nadir, dopo tutto. Ah, il verso che si senta all'inizio. Uh. Benvenuto. Che cacchio amo questo. Questo è il vero Dragalisk? Quanto saluti c'ha! Ah! Ma io non posso affrontarlo! Il palloncino! Non ce l'ha più. Ma non ho niente. No, non è fattibile. Boh. Mi arrendo? Mi arrendo. Mi arrendo.